L'inizio però è parlato. Francesco, vanno fino al teatro alla sala Umberto. Esattamente, eccomi qua, mi hanno messo la musica dei Bruce Brothers, però il primo pezzo è parlato e non me lo ricordo, anche se ho il copo. Però lo sai sembra che lo stai facendo a tempo. Lo so, perché io ho il ritmo nel sangue, hai capito? Adesso tra un po' arriva il refrain e vedrete che comincerò a cantare e a fare questa pessima figura che mi sta detto. Grande Francesco. Io ho perso il tempo. Grande Francesco, senti, siete in scena alla sala Umberto fino a quando? Fino al 18 gennaio, ve le notate in tempo, perché c'è un sacco di gente che ci vuole bere e ci verrà a vedere e sarete tutti contenti perché è una bella commedia dove si ride e tanto. Senti Francesco, ma tu sei un hipster, perché la barba è da hipster. Ma chi è? Ma che domande fai? Ma chi è? Non so cosa vuol dire. Neanche io lo so. Appunto, si vede. Allora, finiamo qui questo collegamento che veramente... Un saluto a Radio Rock, Francesco. Allora, un grande saluto affettuoso a Radio Rock. Yeah, yo, I mean you, yo, yo.